Aspettando la Serie A di Coppa Davis, che prenderà il via da venerdì fino a domenica con le nazionali di Italia e Cile, l'arena da 4.000 posti allestita sul lungomare alla Rotonda Diaz ha ospitato ieri il torneo non agonistico tra ragazzi dai 10 ai 14 anni. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 50 giovani in rappresentanza di 20 circoli delle 5 province campane, che si sono sfidati in un tie-break a 7 punti all'italiana tutti contro tutti. Ai partecipanti sono state consegnate medaglie ricordo dall'assessore allo sport Giuseppina Tomasielli e dal presidente del tennis club Napoli Luca Serra. I bambini di tutta la regione stamattina hanno avuto il brivido di giocare su questi campi, è stato un messaggio che abbiamo voluto dare di coinvolgimento, di partecipazione, l'amministrazione è impegnata molto in questa opera di promozione sportiva. in alcuni quartieri come elemento per smaltire la rabbia sociale.